Verrà riaperta con ogni probabilità sabato 17 giugno la seggio cabinovia della Madonnina di Pratitivo, questo a seguito del collaudo effettuato dai tecnici competenti. L'impianto che sarà gestito come deciso dal Tribunale e dall'imprenditore Marco Finori è quindi pronto per essere riattivato e si attende dopo il benestare della Regione al piano di sicurezza il documento di autorizzazione al pubblico esercizio, sempre dall'ente regionale che potrebbe arrivare a breve. Dunque una buona notizia per tutto il territorio anche se sugli impianti pende sempre la spada di Damocle delle vicende giudiziarie. Il fatto che si apra adesso sabato che francamente era anche tardi perché queste cose di solito si facevano prima però ben venga l'apertura soprattutto perché il territorio che sta vivendo un momento di depressione totale ha bisogno di qualsiasi attività che possa che possa aumentare il traffico dei turisti. Purtroppo abbiamo sopra le teste una nuvola nera perché stiamo assistendo a un possibile esproprio da parte che è ordinato dai tribunali di un bene pubblico e questo purtroppo nessuno sembra nominarlo, nessuno sembra parlarne e non vedo azioni da parte della proprietà cioè stiamo parlando della provincia della Gran Sasso Terramano che sia un'azione concreta o decise di difendere la propria proprietà. Spero poter ricredermi in futuro e vedere che invece non è stato così. Il prossimo 7 giugno ci sarà la pronuncia del merito del tribunale di Terramo sul ricorso presentato dalla Gran Sasso Terramano la società pubblico privata in liquidazione proprietaria degli impianti dei prati Itivo e Prato Selva sull'ordinanza sempre del tribunale che aveva autorizzato il sequestro del ramo d'azienda, la GST e nominato finori custode giudiziario delle attrezzature con l'incarico di amministrarle. Il territorio adesso ha bisogno di poter vivere, di poter muoversi, di poter avere attività e quindi certo quando stai in una situazione così il fatto che gli impianti aprono ti dà un fresco al cuore ma questo come si dice in tanti posti, questo è pane per oggi e fame per domani.